Siamo in compagnia di Michele Magini, Pino Dragons, Firenze. Oggi il derby è stato combattuto, nel terzo periodo poi c'è stato un break da parte della Fiorentina Basket. Quali sono le tue impressioni in generale sulla partita? Sicuramente è stata una partita bellissima, perché penso che una cornice di pubblico così non si veda sempre. Io sono felicissimo di già questa partita, i nostri tifosi sono stati super, c'erano tante persone anche da parte loro. La partita è stata combattuta per quasi tutta la partita. Quando loro hanno messo tre o quattro bombe di seguito con Motta e Poltroneri ci hanno un po' spaccato le gambe. Noi non siamo più riusciti a risalire, facciamo una cosa buona, una cosa un po' meno buona. Però l'unica cosa che possiamo eliminare è l'atteggiamento che ho avuto nei secondi due quarti. Un po' più arrendevoli, meno battaglieri. E questa è l'unica cosa che penso ci possiamo soltanto rammaricare. Salvetti, intervistato al termine della vostra vittoria, la vittoria contro Piombino. Ci diceva che lui vuole vedere una squadra combattiva. Oggi è mancato questo aspetto nel secondo tempo, vi siete un po' arresi psicologicamente nel momento in cui serviva la volontà di reagire. In una partita dove prendiamo 43 punti all'intervallo e loro finiscono 86 per noi è difficilissimo vincere. Perché hanno più talento, sono più bravi, sono costruiti in maniera diversa, hanno tanti nomi importanti. Perché fino ad oggi, prima della parte di oggi, si parlava di manca Lungobardi, c'è Poltroneri, Bloise. Però stasera ammazzavo la partita motta. Che nelle partite precedenti non aveva mai avuto queste percentuali. Io lo conosco bene, anche Matteo, maledetto lui. Però sì, noi non siamo stati probabilmente così umili come siamo stati i primi due quarti. Cioè siamo rientrati e abbiamo detto, vabbè, ci possiamo stare. E invece che abbassare ancora la testa e continuare a difendere, a lottare su ogni pallone, ci siamo un attimo rilassati. Loro non potrebbero percentuali a tre punti, pazzesco, non tiravano il 50%. Quando tiri il 14 su 28 da tre punti, insomma, specialmente fuori casa, per noi è difficilissimo. Ultima domanda, il basket a Firenze è vivo? Quello sicuramente. Io penso che oggi sia stato, al di là della partita, una festa per tutti. Perché c'erano un sacco di ragazzi a vedere la partita. Era tutto pieno. Da un'ora prima della partita c'era già il clima giusto. Sicuramente il basket a Firenze non sia mai morto. Solo che c'è bisogno di entusiasmo, come c'era stasera. Ed è bello giocare in un palazzetto così, dove ci sono tante persone che ti vengono a vedere.